Mi è già capitato di raccontarti come in Salento la costa adreatica sia rocciosa e frastagliata mentre quella ionica sia invece più omogenea e sabbiosa Eccoci quindi sul lato adriatico dove spiccano i faraglioni di Torre Sant'Andrea antico villaggio di pescatori, una località nel paese di Melendugno Trovo che i faraglioni siano un affascinante fenomeno geologico Si formano quando le onde erodono un promontorio All'inizio si forma una grotta che man mano si allarga finché non forma un arco e quando la parte superiore dell'arco diventa troppo sottile ecco che crolla tutto e si forma il faraglione Ovviamente ho molto sintetizzato e questo processo richiede migliaia di anni Lo spettacolo è pazzesco sia sopra che sotto la superficie dell'acqua Guarda un po' Guarda un po' Cambio musica e cambio location Devo dire che questo ruolo della voce fuoricampo mi ha preso un po' la mano Eccoci a Polignano a Mare in provincia di Bari anche conosciuta come la città che ha dato in Italia Domenico Modugno Qui da divertirsi ce n'è ma munisciti di scarpette, boccaglio e maschera o godrai solo a metà Spingiti in là muotando per arrivare fino al mare aperto e trovare acqua pulitissima e una grotta Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.